Ciao, sono Andrea. Io sono Valentina. Allora oggi risponderemo alle vostre domande. Qua c'è Zeus, fatti vedere. Zeus, fatti vedere. Vieni qua a te solone. Ciao! Allora, la prima domanda, come ci siamo conosciuti? Instagram. Instagram. Vabbè, ti ho scritto io comunque, perché sennò tu... Poi, se dobbiamo scegliere un posto, spiaggia o montagna? Montagna. Spiaggia. Montagna. Spiaggia. Montagna. Vabbassimo. Le mucche. Qual è il cibo vostro preferito, la bevanda e la bevanda? La bevanda per me è la birra. Poi lei preferisce la Coca Cola, roba cassate, roba cassate. 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 Sì. Poi, chi ha fatto il primo passo? No, interi un po' insieme. Vero. Poi. Chi è il più romantico? Gesui. Che dici? No, vabbè. No. Vabbè. Zeus. Tu proprio no. Vabbè. Poi, chi è il boss nella relazione? No, non parlo infatti. Per quello che non parlo, perché se no... Ecco, sono io. Questa domanda ce l'ha fatta il fratello suo. Allora, preferisci risotto con riso o riso con risotto? Secondo me il riso va accompagnato con risotto, Angelo, perché è importante, soprattutto per il risotto, che il riso sia fatto bene con il riso. Ok. Adesso posso lui perché io... Vabbè. Poi, la domanda è per me. Cosa mi piace maggiormente di Andrea? Tipo, ho tutto. Sono fico. Vabbè. Bel carattere. Via. Allora, cosa decidi di ora? Aver completato casa nuova, che così almeno se ne stiamo belli tranquilli a casa miscia. Bello bello. Non vediamo l'ora. E anche finisce il Covid. Non ce facciamo più. Il motivo per cui li liate spesso? Ah, ma qua te lo ce voglio. Eh... Di solito... Perché io mi muovo sempre... No. No. Non te ne cazzo. Perché non mi ascolti. Non ti ascolto. Eh? Poi, se vi dovesse lasciare, per quale motivo? Per tradimento. Questo fa male. Non va bene il tradimento. Mio padre. Eccoci. Poi, secondo voi, tra noi fratelli, cioè tra lui, Angelo e Glenn, che sono i tre fratelli... Chi sarà prima di avere un bambino? Sono più grande. Ci sarà un motivo. Vabbè, vai. Continua. Anche se non lo vuoi, però... Qual è il vostro lavoro dei sogni? Il mio lavoro dei sogni? Il posto fisso. No. No. Timbrare. No. Salutare, prendersi il caffè... No, il mio non lo so. Dove sto adesso sto bene. Della mia permanenza con te in questo momento è molto tranquilla, ci aspettiamo un grande futuro. Il nostro cane, i bimbi non ti piacciono. Il cane, bello il cane, no dico vuoi dire qualcosa della tua anche del tuo cibo, il mio cibo preferito? Delle tue culture, le mie culture adobbo, lecce un po' a voi, poi mai rifaccio una lezione di filippino, anche no, dai, io so solo dire taposna, io ma calchita, che carino, a posto, e... vuoi dire qualcos'altro? No, bella grazie per le domande, è stato un vero piacere. E niente, se volete altri video con lui, fate anche voi i video sulle domande, vi metteremo in questo canale e ci aspettiamo tanti like, visualizzazione e soldi, cash cash. Poi con lui avrai, fa tantissimi soldi. E la prossima volta faccio i panchetti. Giusto. Lui è quello del budino, però, non l'hai detto? Io sono quello del budino, quello che ha rovesciato il latte, ricordate? Va bene, basta. Bye, stop. Bye, bye. Ciao.